Adesso passiamo all'ultima distinzione tipologica rispetto alla classificazione dei beni, sempre sotto l'aspetto della loro rilevanza giuridica e destinazione economica, che è quella tra frutti, ovvero frutti naturali e frutti civili. Anche oggigiorno, diciamo, l'articolo ottocento e l'articolo civile distingue tra frutti naturali e frutti civili, ci dice che i frutti naturali sono quelli che si distaccano dalla cosa stessa e i frutti civili quelli che si percepiscono rispetto ad esempio a un corrispettivo che nasce in base all'utilizzo economico della cosa stessa, della cosa cosiddetta madre. Però, presso, diciamo, gli antichi romani c'è anche la distinzione frutti civili e frutti naturali. Frutti naturali, i frutti in generale, sono comunque tutto ciò che costituisce reddito rispetto appunto all'utilizzo economico della cosa madre, cioè in pratica tutto ciò che costituisce un reddito della cosa madre. La cosa madre è la cosa dalla quale i frutti nascono e poi eventualmente si distaccano, però chiaramente la differenza tra frutti naturali e frutti civili è che i frutti naturali sono proprio quelli che esistono presso la cosa madre perché nascono dalla cosa madre e poi eventualmente si separano dalla cosa madre. E quindi diciamo che i frutti non vengono ad esistere finché non sono separati dalla cosa madre, cioè i frutti naturali sono quelli che sono considerati tali nel momento in cui si separano dalla cosa madre. Fino a quando rimangono, diciamo, attaccati alla cosa madre, in pratica non vengono considerati in qualità di frutti ma sono una parte della cosa stessa. E quindi, per fare un esempio, l'albero. Allora, innanzitutto, i frutti sono esistenti perché sono esistenti presso la cosa madre anche prima appunto di essere considerati tali, diciamo di separarsi, però poi sono separati quando si separano dalla cosa madre. E sono frutti consumati, poi ci sono ulteriori distinzioni rispetto ai frutti naturali, per cui si considerano i frutti naturali consumati nel momento in cui il proprietario della cosa madre e che diviene poi anche proprietario del frutto nel momento della separazione, in pratica ha ottenuto, ha sfruttato la destinazione appunto economica del frutto stesso e quindi ne ha ricavato la sua utilità appunto economica e nel momento in cui appunto lo fa, in pratica i frutti si considerano consumati. Cioè, nel caso esempio dell'albero, frutto alla mela, esistente nel momento in cui cresce, è ancora attaccato all'albero, però è ancora una parte dell'albero. Nel momento in cui si separa, il proprietario dell'albero acquista la proprietà sul frutto, nel momento in cui, e se lo mette magari in cucina, nel momento in cui lo mangia, ha consumato il frutto. Nel momento in cui invece che mangiarlo, ha una piantagione di alberi di mela, al momento della separazione fa il raccolto e vende, diciamo, il suo raccolto, come universalità in questo caso di bene, però, comunque, fondato su cose semplici composte, per cui può anche vendere una mela, e la vende, in quel momento il frutto è consumato, anche se non l'ha mangiato. Chiaramente diciamo che le mele non a caso appunto si chiamano frutta e non a caso, diciamo, con riguardo a questo esempio, diciamo, tutto si ricollega appunto alla sua funzione, anche sul piano naturalistico, diciamo, del comune pensare, non solo sul piano appunto del pensare in un'ottica giuridica, però, nei fatti, non è che solo gli alberi, diciamo, anche ad esempio il parto di un animale, è appunto, fa sì che appunto, diciamo, anche l'agnello è un frutto, in realtà, no? Sul piano naturalistico è un animale, sul piano del diritto umano, oltre ad essere appunto, no, non a Res Mancipi, no, perché comunque non era un quadrupede da tiro da so, ma comunque il pony, no, il pony, bisogna chiamare il vitello, sì, il vitello forse cos'è? Figlio del bue, allora, in quel caso sarà una Res Mancipi, però è un frutto anche, perché comunque, nel momento in cui si separa dalla cosa madre, che poi la cosa madre è una mucca, la mucca non so se era, per forse solo i buoni, se era una Res Mancipi, comunque, insomma, nel momento in cui si distacca dalla madre, dalla mucca, il vitello, appunto, è un frutto separato e sarà consumato nel momento in cui il proprietario, della mucca, che è diventato, pertanto, proprietario del vitello nel momento in cui si è separato dalla cosa madre, ne ha, diciamo, approfittato della destinazione economica che il vitello può assumere, pertanto, ad esempio, ci fa il caglio per il formaggio, poverino, oppure, aspetta che cresca e lo vende come un toro, o, come, appunto, animale da tiro da soma, ecco, in quel caso, al momento in cui lo venderà come animale da tiro da soma, dopo anni, sarà un frutto consumato, e quindi, vedete, non è che se, chiaramente, frutti naturali sono solo le pere, le mere, chiaramente, frutti naturali sono, oltretutto, percipiendi o percetti, se, appunto, la seconda è che si omette di raccoglierle, oppure, che li si raccolga, quindi, nel momento in cui raccolgo la mela dall'albero, sarà un frutto separato, non ancora consumato, un frutto, comunque, però, percetto, perché è stato raccolto. Se, invece, io ometto di raccogliere frutti, per esempio, le mele, marcisce, magari, sull'albero, finché non cade, non è più nemmeno una mela, in quel caso abbiamo, cosiddetto, frutto, percipiende, cioè, percipiendi, frutti, scusate, perché il singolare non lo conosco, però, percipiendi, perché, sinceramente, è una parola che, che, diciamo, è la prima volta che sento. Comunque, frutti, percipiendi, a parola, non so come si dica, qui, pertanto, appunto, ho sbagliato a pronunciare la parola quando ho detto che il frutto cade dall'albero, perché, non conosco il singolare della parola, però, frutto che non si raccoglie, che si omette di raccogliere, è un frutto percipiente, quindi rimane attaccato alla cosa madre, diciamo, non si separa mai perché nessuno lo raccoglie, finché, magari, muore, appunto, marcisce, cade per terra, non è più un frutto, ma diventa il noccio, diciamo, eventualmente il seme per un altro albero, di mele. Comunque, diciamo, con rigore ai frutti naturali, più o meno distinzione, sotto categorie distintive sono questi, frutto, pertanto, esistente quando è ancora attaccato alla cosa madre, quindi sarà sempre il frutto percipiendi, i frutti percipiendi sono comunque esistenti, finché, diciamo, sono attaccati all'albero e poi dopo, però, diciamo, c'è omissione, appunto, sulla loro raccolta. Riguardo ai frutti civili, invece, sono quelli che costituiscono un semplice reddito per la cosa madre, diciamo, rispetto alla cosa madre, ad esempio, quindi non sono cose che nascono, quindi non sono frutti esistenti presso la cosa madre, sono frutti, però, che possono essere percetti, in un certo senso, possono essere, diciamo, non si separano dalla cosa madre, non sono frutti esistenti, non si separano dalla cosa madre, possono però essere consumati, penso, nella misura in cui, appunto, diciamo, nel momento in cui costituiscono reddito della cosa madre, diciamo, se ne sfrutta, appunto, si sfrutta destinazione economica, l'utilità, appunto, dell'incremento del reddito. Il reddito che cos'è? È una sorta, è, in pratica, l'incremento, che è una cosa, l'incremento di valore e di utilità, che è una cosa madre, appunto, può determinare, nel momento in cui origina, appunto, i suoi frutti. E questa può aversi anche, non solo nel caso, appunto, del frutto dell'albero, o del parto della mucca, no? Che è, appunto, dove la cosa, appunto, viene a nascere, effettivamente. E dove la cosa, in effetti, si distacca, appunto, dalla cosa madre, no? Diciamo che per l'albero, il frutto, appunto, anche sotto il profilo della demanazione, è proprio un frutto. Nel caso del parto dell'agnello, altro caso, appunto, il frutto naturale, comunque, il frutto si separa, appunto, dalla cosa madre, che poi, effettivamente, anche sul piano del significato letterario, è effettivamente una cosa madre, non la madre, la madre, cioè una mucca, è la madre del vitello. Mentre, sul piano dei frutti civili, in pratica, i frutti, sul piano dei frutti civili, diciamo che i frutti, sono, appunto, esclusivamente il reddito che la cosa madre produce. Quindi, pensate a una casa, ecco, diciamo, una casa può essere una cosa, un ben che produce reddito, come? Ad esempio, se, diciamo, se la vendo, chiaramente mi darà reddito solo rispetto all'incremento di valore in rapporto, appunto, a quanto l'ho pagato. In quel caso non sarà, diciamo, un frutto, eventualmente l'incremento meno di valore. In quel caso sarà, appunto, semplicemente, appunto, mi darà, diciamo, la misura del guadagno sull'affare, appunto, che eventualmente ho compiuto. Perché riguarda sempre il valore della casa, cioè sempre quella cosa lì. Io posso venderla un po' di più, posso venderla meno, posso averci guadagnato, posso averci perso, però parliamo sempre, diciamo, del valore che si può dare alla casa. Viceversa, la casa, di per sé, tra la sua utilità, anche quella, ad esempio, di fornire un reddito. Fornisce un reddito nella misura in cui, e questo appunto rientra nella nozione di frutto civile, nella misura in cui io posso percepire, ad esempio, un canone d'affitto. Quindi, in questo caso, pertanto, il reddito, che è, quindi, l'incremento su un valore, diciamo, l'incremento di valore del mio patrimonio, che la stessa casa, diciamo, mi offre, è appunto basato su una destinazione economica della stessa, diciamo, dello stesso immobile, rientra, diciamo, nell'ottica della destinazione economica dell'immobile e fa sì che, appunto, il canone di locazione possa essere considerato un frutto, quindi, in quanto appunto, è la casa che in quel caso mi produce un reddito. E, pertanto, chiaramente, però, non è un frutto esistente nella casa, un frutto che è destinato a doversi separare della casa, è, diciamo, semplicemente reddito puro e semplice, appunto, rispetto alla destinazione economica della cosa, appunto, principale. Chiamiamola cosa madre, in questo caso, è abbastanza scorretto, perché, però, diciamo, della cosa, appunto, di una cosa, quindi, ciò che è reddito di una cosa, di un bene patrimoniale, è anche, appunto, un frutto, appunto, civile della cosa stessa. E, con questo chiudiamo, non solo argomento relativo alla distinzione, la classificazione tra frutti, civile e naturale, ma è anche proprio l'intera classificazione, appunto, dei beni presso, appunto, gli antichi romani. Poi ci sono altre, comunque, classificazioni o distinzioni tipologiche, comunque, dei beni patrimoniali, sia, vabbè, sul piano naturalistico, quindi, in quel caso, non patrimoniali, o comunque non con riguardo alla rilevanza giuridica, sul piano, però, giuridico, ci possono essere altre distinzioni, che, però, diciamo, non valutiamo, perché non sono, diciamo, riconducibili, e non acquistano, diciamo, una rilevanza giuridica, nell'ambito, appunto, del diritto romano, che è quello che noi ci stiamo studiando. Tanto, per fare un esempio, nel diritto attico, cioè quello degli antichi greci, invece c'era anche una distinzione basata sui beni visibili e i beni invisibili. Forse, non saprei nemmeno adesso dire esattamente come, magari era riconducibile a quella che noi, invece, abbiamo analizzato come beni corporali, se bene incorporali, se non so, res corporali, se res incorporali, non so, magari non c'entra su tanto niente della cosa completamente diversa. Comunque sia, sussisteva questa distinzione tipologica di beni visibili e invisibili nel diritto attico, così come, diciamo, ce ne potrebbero citare altri, ad esempio, nel diritto germanico, e via dicendo. Cioè, quindi, rispetto alla rilevanza giuridica, teniamo presente, concludiamo un discorso sulla classificazione dei beni, ricordando che, chiaramente, tutta la classificazione che noi abbiamo fatto dei beni è riconducibile a, diciamo, aspetti ricollegati alla destinazione economica del bene stesso e alla rilevanza giuridica che lo stesso assume nell'ambito, in questo caso, dell'ordinamento giuridico del diritto romano, ma altre, diciamo, distinzioni possono fare, o comunque altre classificazioni possono, chiaramente, sussistere, anche, appunto, aggiungersi comunque o non essere considerate in altri, diciamo, rispetto alla rilevanza giuridica che altri ordinamenti magari potranno conferire, appunto, ai beni giuridici e patrimoniali. Sta di fatto che, tanto per concludere, ricordiamo che un bene pertanto, diciamo, sotto l'aspetto naturalistico è considerato tale quando è una cosa, ma sul piano, diciamo, della rilevanza giuridica è tale se ha determinati caratteristiche, ovvero, rispetto alla destinazione economica e quindi l'utilità che il bene stesso, diciamo, la funzione di utilità che si accompagna alla resistenza del bene stesso è riguardo alla rilevanza giuridica che può assumere nell'ordinamento giuridico in generale, cioè rispetto alla possibilità pertanto che quella tipologia di bene magari si riferisca diciamo, a una determinata tipologia di negozio, o rispetto al fatto che l'assunzione di un determinato atto negoziale o comunque istituto sia subordinata al fatto, diciamo, sia subordinata al fatto che oggetto appunto di quel rapporto giuridico sia solo magari una determinata tipologia di bene e quindi chiaramente queste classificazioni diciamo, incorrono, incorrono, sopperiscono, appunto, sono utili sul piano appunto della rilevanza giuridica che le stesse classificazioni assumono nell'ambito appunto di quell'ordinamento giuridico preso in considerazione. e quindi adesso invece iniziamo a parlare di modalità di acquisto della proprietà. Quindi ci ritorniamo al discorso sulla proprietà e iniziamo a parlare delle diverse modalità di acquisto della proprietà. Quindi modalità di acquisto della proprietà a titolo originario oppure modalità di acquisto appunto a titolo derivativo. di acquisto